Tanto abbiamo giocato bene, serve anche a mettere minutaggio nelle gambe perché fisicamente facciamo un po' fatica a dettare il ritmo del gioco. Diciamo che tutti i ragazzi che stasera hanno giocato meno e che hanno impiegato questa partita si allenano sempre al 100%, compreso me. Cerchiamo di andare avanti, ci tenevamo questa manifestazione e abbiamo fatto una buona gara. Una gara che come aveva detto anche il vostro mister Carlo Perrone avevate fatto di tutto nel secondo tempo per complicarvi nuovamente la vita. Siete riusciti però a riagganciare il Catanzaro, a ristemvenire l'equilibrio in campo grazie al gol di Munaro. Una bella soddisfazione aver staccato il biglietto per il turno successivo della Coppa Italia. Avete fornito anche una prova di carattere riuscendo a rimontare il risultato. Sicuramente la prova di carattere c'è stata perché abbiamo rimontato il risultato, però è pur vero che abbiamo preso un gol evitabilissimo. In una società importante come questa, in un gruppo così importante composto da grandi giocatori, dobbiamo cercare di limare queste piccolezze che poi fanno la differenza in queste categorie. Però, ripeto, abbiamo fatto sicuramente una buona gara e abbiamo ribaltato il risultato. Ci tenevamo dopo sicuramente la sconfitta di domenica ed è una cosa che ci dà morale anche per il derby di domenica ancora. Questa gara può aiutarvi anche a ritrovare fiducia nei vostri mezzi in vista anche delle prossime gare del campionato, visto che poi in campionato non state attraversando una fase facile? Sicuramente. Sicuramente questa è una vittoria che dà morale sia a chi ha giocato meno, ma dà morale anche al gruppo intero per poi far sì che domenica sia una grande partita. Diciamo che sappiamo tutti il valore della partita di domenica. Scenderemo un campo sicuramente per fare il risultato senza nessun alibi. Per chi rialetti, questa stagione dal punto di vista personale, che valore ha? Valore importantissimo perché con molto ammiltà di fare il mio primo anno di prima divisione mi sto confrontando con una realtà che non avevo mai intrapreso in una società così importante, in una piazza così importante che è esigente e che soprattutto ti fa crescere sia come calciatore che anche come uomo.